Ciao ragazzi, Antonio Rico di lezione di chitarramoderna.com ed in questo video voglio condividere con te i 5 errori più comuni che si commettono quando si vuole imparare a suonare uno strumento tipo la chitarra. Gli studenti commettono questi errori spesso inadvertitamente e ciò causa dei progressi molto lenti ed in molti casi alla fine si arriva con l'essere scoraggiato, al pensare che non si è in effetti portati per suonare lo strumento e quindi poi si abbandona. In effetti non è così perché se ti piace la musica e vuoi imparare a suonare anche tu lo puoi fare con la giusta guida, i giusti consigli e gli esercizi giusti. Quindi oggi vorrei darti questi consigli, rimani con me e sono sicuro che aiuteranno tanti in questo cammino con lo strumento. Il primo errore è quello di non riuscire a distinguere tra il suonare e l'esercitarsi. Quando uno suona, suona le cose che già sa fare. E' un'ottima cosa suonare con gli amici, con una band o anche da soli. Spesso a volte è anche terapeutico. Però esercitarsi è altrettanto importante, se non più importante a volte. Infatti quando ti eserciti non suoni le cose che sai fare, ma ti dedichi agli esercizi giusti che devi fare, gli esercizi cromatici, alle scale, eccetera eccetera. E stai attento ai dettagli. Per esempio, se stai imparando un nuovo riff o un nuovo assolo, allora magari ti dedichi a suonare una porzione, la porzione che ti dà più problemi, piano piano, assicurandoti di suonare con la giusta tecnica. E così, piano piano, esercitandoti in maniera giusta, facendo gli esercizi giusti, adatti al tuo livello e allo stile di musica che vuoi suonare, allora piano piano la tua tecnica diventerà sempre migliore, sempre più forte. E poi diventerà sempre più facile imparare nuovi brani e ovviamente sarà anche più divertente suonare, perché adesso ti viene sempre più facile suonare. Quindi esercitarsi è una parte estremamente importante e quindi io consiglio sempre di dividere il tuo tempo con lo strumento tra un po' tra l'esercizio e un po' tra il suonare, così che c'è anche un balance, ok? C'è un po' di lavoro e c'è anche un po' di divertimento, ok? In questo caso vorrei portare l'esempio di un mio vecchio studente. Questo ragazzo mi veniva a casa e ovviamente io gli davo gli esercizi giusti, gli spiegavo quello che dovevo fare a casa, soltanto che ogni volta che ritornava la settimana successiva vedevo che non c'era nessun progresso. E ovviamente gli chiedevo, ma cos'è successo questa settimana? Hai suonato oppure sei stato a guardare la televisione? No, 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 ho suonato tantissimo, ho suonato tantissimo. Vabbè, una settimana, due settimane, tre settimane, e poi alla fine gli chiedo, ok, allora spiegami esattamente quello che fai a casa, perché io qui non vedo nessun progresso, ovviamente non vogliamo sprecare tempo. Al che mi spiega che durante la settimana fa poco e poi a fine settimana invece gli amici vanno a casa sua e suonano con la band e si divertono tantissimo, fanno questi brani, suonano tantissimo. Però ovviamente cosa fanno? Suonano brani che non sono adatti al loro livello, soprattutto al livello di questo ragazzo, e quindi non c'è mai quella crescita e quindi lui rimaneva sempre allo stesso livello. Ok, quindi questo qui è un aspetto estremamente importante. Il secondo errore che si commette è quello di non seguire un percorso graduale, quindi un programma graduale, sia che tu vada a lezioni di chitarra private oppure che tu segua uno dei miei corsi di chitarra online oppure tu decida di essere completamente autodidatta, devi comunque seguire un percorso graduale, ok? In tanti oggi, come oggi, fanno l'errore di pensare che ci sono tantissimi video gratuiti online, su YouTube, quindi basta andare lì e uno impara. Sì, impari qualcosina, la impari, però alla fine questo è il metodo migliore per assicurarsi di avere tantissime lacune nella tua preparazione. Perché alla fine tu non sai quello che non sai. Se vuoi imparare qualcosa di nuovo, come imparare uno strumento, avere una guida, sia un libro che ti spiega esattamente i passi che devi fare, sia un corso, sia un insegnante, hai bisogno di quella guida. Altrimenti, non sapendo quello che non sai, ti metti a girovagare online, spiegando tantissimo tempo e quindi cosa succede? Succede che non vedi i progressi come dovresti. Perché passi da una cosa all'altra, magari la suoni male, magari ti cimenti anche con dei brani che non sono adatti al tuo livello e quindi poi lì rimarrà sempre con tantissime lacune e quello è un grossissimo problema perché potrebbe ovviamente causare tante, appunto, al pensare che non sono portato perché non riesco a fare quel brano lì e quindi poi abbandonano. La terza ragione per la quale spesso vedo che gli studenti abbandonano lo studio dello strumento è perché non è divertente. Deve essere divertente. Suonare uno strumento, sia che tu lo faccia a livello amatoriale o professionale, deve essere divertente. È un hobby. Anche per noi professionisti è il mio hobby preferito suonare la chitarra e comporre musica. Quindi deve essere il corso che fai, il professore, l'insegnante a cui vai a lezioni private o il corso che fai online devono essere stimolanti, devono creare quella passione, quel fuoco all'interno di noi. Cosa qui è estremamente importante. Io mi ricordo da ragazzo partì come pianista all'età di 11 anni e non vedevo l'ora che la lezione finisse perché mi facevano suonare musica classica. La cosa non mi interessava. Poi quando sono passato alla chitarra avevo un altro insegnante che non mi stivolava molto. Poi alla fine ho trovato invece quello che è riuscito ad accendere quel fuoco in me. Mi insegnava i brani dei Led Zeppelin all'epoca come iniziare a suonare un pochettino di chitarra solista e poi questo mi spinse anche ad essere più interessato e più invogliato a esercitarmi con la tecnica, a sviluppare la mia tecnica, a sviluppare anche la mia conoscenza teorica perché la teoria è anche se estremamente importante. Quindi a qualsiasi livello tu sia è importante anche conoscere la teoria adatta a quel livello per aiutarti poi a suonare anche meglio. Il quarto errore è quello di non avere una routine quotidiana. Gli studenti che mostrano progressi più lenti sono proprio quelli che suonano saltuariamente. Magari si dedicano alla chitarra soltanto il fine settimana. Sarebbe meglio dedicare un pochettino ogni giorno magari fai quello che puoi ovviamente mezz'ora, venti minuti, quarantacinque minuti, un'ora dipende ovviamente dal livello al quale vuoi arrivare però per chi inizia già quella mezz'oretta, quarantacinque minuti al giorno sono un toccasano e poi magari nel fine settimana durante il fine settimana puoi pensare di aggiungere un po' più tempo. Quindi meglio fare mezz'ora tutti i giorni o cinque giorni alla settimana che fare due o tre ore il sabato e la domenica. Soprattutto all'inizio è importante avere questa routine quotidiana e fare gli esercizi gradualmente così che piano piano, piano piano giorno dopo giorno accresciamo il nostro livello. Ed infine bisogna capire che ci vuole costanza nel tempo se si vogliono vedere dei veri risultati. Un pochettino come imparare a leggere e a scrivere. Non ci abbiamo mica messo due o tre giorni. E la stessa cosa è anche con lo strumento. Ovviamente bisogna vedere a che livello uno vuole arrivare. Se uno vuole semplicemente imparare a suonare bene delle canzoni allora quei quattro, cinque, sei mesi potrebbero essere sufficienti per alcuni per altri magari un anno. Dipende ovviamente dal tempo e dal talento che hai. Se invece vuoi suonare il blues o stili più avanzati tipo il jazz ovviamente lì ci vogliono diversi annetti di studio. però ecco continuare questo percorso e gradualmente iniziare a vedere i risultati ti aiuta sempre di più a mantenere quella fiamma accesa quella passione e quindi poi diventa un passatempo diventa una passione appunto a dedicarsi allo strumento e continuare a migliorarsi nel tempo. per i prossimi giorni ho pensato di offrire i miei corsi di chitarra online con lo sconticcione questa è un'ottima opportunità per acquistare dei corsi che funzionano veramente e che hanno aiutato letteralmente migliaia di studenti in tutto il mondo ad imparare lo strumento. Ci sono diversi corsi adatti ai diversi livelli se vuoi saperne di più clicca sul bottone offerta speciale che trovi su questa pagina e ci vediamo nel prossimo video dove ti spiegherò esattamente quali sono i corsi e le offerte speciali del momento.